I carabinieri della stazione di Marconne in provincia di Venezia hanno sgominato l'attività delittuosa di un gruppo di cittadini campani che svuotava i conti correnti di vittime prescelte sul territorio. Un fenomeno purtroppo in salita è chiamato vishing. I malviventi usano una tecnica consolidata, agganciano telefonicamente la vittima tramite un numero verde associato a un istituto di credito, facendogli credere tramite un finto operatore dell'istituto bancario di aver constatato un bonifico fraudolento in uscita dal conto corrente, richiedendo per bloccare l'operazione di comunicare i codici di accesso al conto corrente online. Attenzione perché le banche non chiedono dati personali al telefono sui vostri conti correnti. A Martellago gli uomini dell'arma hanno restituito ad alcuni cittadini truffati 75 mila euro. A Marconne, grazie ad un'accurate e attenta indagine, i carabinieri hanno individuato alcuni autori di questi raggiri. Già dalle prime analisi realizzate è emerso che i tre REI avevano posto in essere almeno altre 13 truffe con lo stesso sistema ai danni di altrettante vittime, motivo per il quale sono state allertate le competenti stazioni dei carabinieri per accertarne i contorni.